Abbiamo visto recentemente il comportamento della funzione esponenziale. Esploriamo oggi le proprietà della funzione logaritmica e cominciamo da una funzione abbastanza semplice da rappresentare. La funzione y uguale logaritmo in base 2 di x. Costruiamo la nostra tabella, assegnando cioè dei valori casuali ad x, ricaviamo i valori di y e andiamo poi a rappresentare nel nostro piano cartesiano i valori che abbiamo ottenuto. Assegniamo ad esempio ad x il valore 8. Il logaritmo in base 2 di 8 è il valore dell'esponente che devo assegnare a 2 per ottenere 8 ed è 3. Se scegliamo il valore 4, il logaritmo in base 2 di 4, cioè l'esponente che devo dare a 2 per ottenere 4, è 2. Se x è 2, il logaritmo in base 2 di 2 è 1. Se x fosse 1, il logaritmo in base 2 di 1 sarebbe 0. E poi, se x fosse un mezzo, il logaritmo in base 2 di un mezzo sarebbe meno 1. Se x fosse un quarto, sarebbe per y meno 2 e con un ottavo, meno 3. Con questi punti che abbiamo appena trovato possiamo a questo punto costruire la nostra funzione. Andiamo quindi a rappresentare il punto 8, 3, il punto 4, 2, 2, 1, 1, 0, un mezzo, meno 1, un quarto, meno 2 e un ottavo, meno 3. Uniamo poi questi punti. La funzione che abbiamo rappresentato dovrebbe avere qualcosa di familiare. Proviamo ad agire così. Se noi ruotiamo la nostra funzione di 90 gradi in senso anti-orario, notiamo subito che in questo modo la funzione ci ricorda un andamento esponenziale. Proviamo allora a questo punto a confrontare questa funzione appena ottenuta con la funzione y uguale 2 alla x. Procediamo quindi costruendo una tabella come abbiamo fatto in precedenza. se associamo alla x il valore meno 3 otteniamo un ottavo, meno 2 otteniamo un quarto, meno 1 un mezzo, 0, 1, quando la x è 1, 2 alla 1 fa 2, quando la x è 2, 2 alla seconda fa 4, e con x uguale a 3, 2 alla terza fa 8. E andiamo a rappresentarci questi punti. Quindi se x uguale a meno 3, qua ho un ottavo, meno 2, un quarto, meno 1, un mezzo, 0, 1, 1, 2, 2, 4, e 3, 8. e andiamo a rappresentare la nostra nuova funzione che già conosciamo. Queste funzioni hanno quindi qualcosa che le accomuna e di fatto sono molto simili l'una all'altra. Se noi andiamo a vedere le coordinate dei punti che appartengono a queste funzioni, ci accorgiamo che, come ad esempio questo caso e questo caso, abbiamo invertito fra di loro la x e la y. Questo ci riporta quindi ad una situazione di simmetria rispetto alla bisettrice di primo e terzo quadrante, cioè le nostre due curve sono come allo specchio, ad uno specchio e questo specchio è appoggiato lungo la bisettrice di primo e terzo quadrante. Considerando che queste due funzioni sono semplicemente simmetriche rispetto alla bisettrice di primo e terzo quadrante, ma poi hanno mantenuto inalterate alcune proprietà qualitative, possiamo a questo punto andare a ricostruire le proprietà della nostra funzione esponenziale e vedere come si comporta la nostra funzione logaritmica. Andiamo a vedere come si trasformano queste proprietà per la nostra funzione logaritmica. Innanzitutto possiamo notare che passa per il punto 1, 0. Ma questa che abbiamo scelto, y uguale logaritmo in base 2 di x, ma vale per tutte? Sì, perché noi abbiamo imparato che il logaritmo in base a con un a base qualsiasi purché è maggiore di 0 e diversa da 1 e con argomento 1 sarà sempre uguale a 0, ovvero 0 è l'esponente che dobbiamo sempre dare alla base per ottenere l'argomento che in questo caso è 1. Quindi esattamente come la funzione esponenziale passa sempre per il punto 0, 1, la funzione logaritmica passerà sempre per il punto 1, 0. L'assintoto però in questo caso non è più l'asse x, ma l'assintoto è diventato l'asse y. E la nostra funzione non si trova più in primo e secondo quadrante, ma si trova nel primo e nel quarto quadrante. E questo avviene perché noi sappiamo che l'argomento di una funzione logaritmica deve essere sempre e comunque maggiore di 0 e quindi questo ci porta ad operare solo in primo e quarto quadrante. Come ultima proprietà abbiamo che se la base del nostro esponenziale è maggiore di 1 la funzione esponenziale è crescente, ma la funzione logaritmica che noi abbiamo rappresentato in questo caso è una funzione con una base maggiore di 1. Era in effetti questa base che noi abbiamo rappresentato, la base 2. E anche in questo caso possiamo vedere che effettivamente risulta essere crescente quando la base è maggiore di 1. E questo avviene sempre e comunque perché qualsiasi sia la funzione esponenziale che noi possiamo rappresentare qualitativamente in questo modo quando è maggiore di 1, la nostra funzione logaritmica qualitativamente si esprimerà in questo modo. Vediamo come cambiano le cose invece quando la base è minore di 1. Consideriamo ad esempio una funzione esponenziale con base un mezzo quindi y uguale un mezzo alla x. Quindi sappiamo che se x è uguale a 0 la nostra funzione assume valore 1. Se x è uguale a meno 1 allora y è 2. Se x è uguale a meno 2 y è 4. E se x è uguale a meno 3 y è 8. da questa parte invece se x è uguale a 1 y è un mezzo se x è uguale a 2 allora y è un quarto e se x è uguale a 3 avremo che y è un ottavo. Quindi la funzione che otteniamo come sappiamo è in realtà decrescente. Ma noi abbiamo detto che nel del confronto tra la funzione esponenziale e la nostra funzione logaritmica queste risultano essere simmetriche rispetto alla bisettrice di primo e terzo quadrante. E quindi vorrà dire semplicemente che dovremo scambiare fra di loro la x e la y. Proviamo a vedere se questo realmente funziona. Questo punto si sposta qua questo si sposta qua in questo modo e a questo punto questo va qua ovvero sembrerebbe che l'andamento della nostra funzione logaritmica debba essere questo mentre quello della funzione esponenziale risulterà essere questo. Proviamo a vedere se la nostra funzione è logaritmo in base a un mezzo di x facendo una tabella con x e y se x risultasse essere uguale a un ottavo allora avrei che y dovrebbe essere uguale a 3 ed effettivamente ho questo primo punto con x uguale a un quarto y dovrebbe essere 2 con x uguale a un mezzo y dovrebbe essere uguale a 1 con x uguale a 1 y risulterà essere uguale a 0 con x uguale a 2 allora y sarà uguale a meno 1 con x uguale a 4 y sarà uguale a meno 2 e infine con x uguale a 8 y sarà uguale a meno 3 e questo qua ricalca effettivamente il grafico che abbiamo appena rappresentato quindi il rapporto che esiste in questo caso fra la funzione esponenziale e la funzione logaritmica è sempre espresso da questa simmetria rispetto alla bisettrice di primo e terzo quadrante e quindi di fatto la nostra funzione logaritmica mantiene le caratteristiche della funzione esponenziale ma cambiandole un po' ovvero il passaggio per il punto 0,1 diventa il passaggio per il punto 1,0 l'assintoto x diventa un assintoto y l'appartenenza a primo e secondo quadrante diventa un appartenenza a primo e quarto quadrante ma si mantiene il fatto che se la base è maggiore di 1 la funzione è crescente se è compresa fra 0 e 1 allora la funzione è decrescente c'è qualcos'altro che accomuna funzioni esponenziali e funzioni logaritmiche sappiamo che nel caso in cui la nostra funzione esponenziale abbia una base maggiore di 1 sarà appunto una funzione crescente e nel caso in cui invece abbia una base minore di 1 sarà una funzione decrescente non solo le due funzioni nel momento in cui hanno come base l'una il reciproco dell'altra saranno in realtà simmetriche rispetto all'asse y questa cosa viene rispettata anche dalla nostra funzione logaritmica nel momento in cui la base è il reciproco l'una dell'altra ma la simmetria non sarà più rispetto all'asse y ma rispetto all'asse x vedremo che le somiglianze non finiscono qui anche per quanto riguarda la soluzione di equazioni e disequazioni logaritmiche ci saranno molte affinità